Oggi è sabato, 9 settembre, sono le ore 15.30 circa, allenamento della prima squadra, militante in seconda categoria, girone E, la prima squadra di mister Marco Piccirilli, partitella in famiglia, si sono suddivisi in due gruppi, uno con maglia bianca e l'altro con casacca Orange. Stanno sorgendo l'allenamento a quest'orario nel primo pomeriggio in quanto più tardi è previsto la semina e la concimazione del manto erboso da parte di tecnico specializzato, sperando che giunga anche la pioggia per far sì che le sementi si sviluppano e crescono, di portando il manto erboso almeno a una situazione più piccosa. mister Marco Piccirilli si è messo in terropeggiore per richiamare i suoi, un disimpegno di palla corretto. Per la prima volta sono stati inseriti in questo allenamento quattro ragazzi degli allievi e precisamente il capitano Tei di Mata, Giallonardo Emanuele Dettolele, Nicola Perrucci e Guido Colaisi. Ci doveva essere anche Cristian Nasuti ma ieri durante l'amichevole contro il Fosso Francese ha riportato una contusione al piede e per precauzione sta al riposo quindi non ha potuto se si può dire così tra virgolette esordire nell'allenamento con la prima squadra. mister Marco Piccirilli ha fermato il gioco e sta dando spiegazioni tecniche ai propri ragazzi. si vede il collega consigliere Adriano Gian Cristoforo nel manager di tuttofare e sicuramente è andato a pulire gli spogliatoi per far sì che quando a termine degli allenamenti i ragazzi possono lavarsi e fruire degli spogliatoi puliti. là in fondo si vede anche le sagome, le nuove sagome acquistate dalla società per i giri di punizione, a girare la barriera virtuale formata da tale sagome. Ecco mister Marco che rimette in gioco passando a Matteo, c'è Leo con la casacca Orange, qua c'è Nicola l'allievo inserito che fa l'esordio in allenamento con la prima squadra. ecco Nicola prende la palla e mister Marco ferma il gioco. là in fondo sempre con la casacca bianca c'è Guido, Lele e Teddy là in fondo. c'è di Matteo. Allora ragazzi ogni tanto mentre giriamo col pallone vi do qualche riferimento, in base al riferimento sempre gli arancioni vanno in copertura. un pallone verde, una casacca rossa, guardate sempre il pallone. scappa scappa scappa. ecco ha rimesso in gioco mister Marco, ripartono gli Orange. il mister interrompe continuamente il gioco per dare i giusti suggerimenti ai propri ragazzi. questa partita dell'impamia è finalizzata proprio a tale scopo. faccio c'è lui cricata, tra le trame. sui l'os Grazie.